a a a a a bella grande modo posto a testo che fate vedi che amo capo si fantasma del tempo vino ci vuole parlare no no, fa partire lui c'era menzioni non si può schippare questo dialogo si ma sto flopsando e vado a 30 si piace invece che 60 non mi piace non perdiamoci in inizio il livello della felicità svanillante degli arcobalini no stai sentito quello che dice meno ava no, dovrei leggere intendi il livello bovino no non c'è nessun livello bovino ora muuuu perdonati muoviti stiamo continua bizzarta e voilà no, bellissimo un in un 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 per un 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 acquistano 4 di rossi ciò che mi sono accrezzando 1 un minuto un buono testo la nuvola che fa? non lo voglio cliccare opposto tutt'allo per esempio sono spesso felice carica misera che male stiamo senti quellicioso di merda questa modalità inferna possene cura mitica un altro sono 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 sangue go go C'è una versione duri ma per adesso non hanno abilità strana Aspetti posto, mi ha detto di elite No, non erano elite, roccia No Bello sulla mappa il disegno Hai visto? What the fuck? Bono mio mini bono No Ma attento e allo setto felice Ecco questo uno Devo trasformare Mi fette danni congelante vita extra Provo che buono su un po' di più veri Dai qua Sono morto Non lascia No 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 eh curati io non posso scappare dagli orsetti Mi hanno segato gli orsetti Nooo che cazzo Eh Vanella vai Sei morto? Vai così E restiamo Grazie cazzo c'è morto degli orsetti peloni Che scurno raga Pissa che fa male Questa dove le pozioni servivano Ti mangiamo un po' di vita dai non ce la puo vedere Muore un minuto Guarda guarda che Mi segna di nuovo Ha niente di vita niente di vita Ah morgo Ma l'elettorso c'era sempre abil Asteris Noi si sobbiamo si Però Sì che Se non so morto I cazzi Ora si amici miei Ma come hai fatto a sopravvivere Naka? Non so Sono riuscito a curarmi con le abilità Sgravo il barba Non si fa niente Io lo sparo non si fa niente Stai smitragliando uno a casa? Sì 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 no Lo spettacolo giuro È giapponibile Sì sì no Na te lo so l'appropò Oro Non so Non so Sì no 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 questi fiorini colorati no come sono morti farò troppo male se c'essi comunque sono sparo veramente i miniponi sono quelli che veramente fanno schifo di tutti mi ha scenduto il mio mini miniponi no cazzo muori ho toppo 400 voltami va bene un po eeeh ma se tu vai di là è questa io sei con quello grosso ma non sono sempre qua stavo lontano avete proprio posto tasca che cazzo è la dignità facile top a tarp si ma io che ci faccio questi posso anche sopravvivere e scappare oh il licenza con obbio è andato in serie A eh ma ti toccano la ragazza state che ho appena seto una bestemmia nella vacca ecco 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 ok tec ecco guardali 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 mi espresso c'è parlo Un posto da Barbaro lì, si era bugato anche prima lì E io sono lui che si è ancora fitto di farlo Dai Barbaro, metti gli attacchi a distanza Lancia le più lance E abbiamo inciso i quattro, lì è troppo semplice Sono stato vissuto il 3,4% della vita Ho fatto l'achievement Eh, pure io l'ho fatto Ho fatto 3-4 volte, io l'ho fatto 3-4 volte Che grosso, eh Allora, farlo il 59 Io faccio al 5 SW Al 5 SW Anzi, guardatevi il posto strategico là dietro I funghi, attenti Allora, di qua sta andando, ok Io ho pulato un paio di fiori, il tuo bordello Mi piace il suo sparo Eh, naca, so che, eh, ma escono meno blu e gialli che non nelle altre cose, come al solito Allora, direi la stessa cosa, lo sai Porca miseria, ma dai, che tristezza Ti stai immaginando che sto pensando Un più piccolo E abbiamo speso Una scola impressionante E c'è meno roba, c'è veramente Guardate Guardate, c'è una scoperta C'è adesso Ma come ha chiesto un giallo prima, non l'ho diventato ancora, però c'è Ma che vuole vedere, soltanto che livello drop Aspetta, molto più drop Uuuuuh, non vedi, non sti più di scoperta Non lo so, ma fanno male Cazzo, belle buoni, mi sfondano Che cazzello quel combo, tu Aspetta, un secondo Vabbè, no, solo a pentola d'oro, non lo aspetti Troppo livello C'è che stiamo nella cosa abisso Wow, fa il schiattamento di testo e zumba da capa Quella dobbiamo avere Che è meglio Che è meglio Un calderone Un calderone Aspetta che mi svuoto delle cose bianche senza buttaggiù E io ho paura del raro, veramente E' stato raro? Eh, no, il barbaro però Si sta lasciando Ma su qua? Ok No, io ho visto la demo nella tele di Vito Ah, ma il barbaro sale e scende E mi scende? Ma l'ascensore Sare il nado, scende la gola, vuole fare delle caramelle, sai? Eh Perfetto Io sto perdendo gli occhi, veramente Tu stai perdendo gli occhi Ah, i colori No, frapsando mi ha abbassato un po' il frame rate, quindi Non è che scatta, eh, che lo vedo un po' rallentato, quindi mi sto perdendo gli occhi No, 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 qualcuno non lo faceva Il mitraglio Guarda il raro, che merda Cosa è il termine? No, no, no No, 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 no Che merda, ass No, che termine di merda, che merda Ti ho messo, porca vacca troia Ah, mi piace quando ci capiamo e andiamo un po' tipo tre pull diversi içiro Con. Z Le zonofco da carte Soumarque un Belgane No, questo colanzo deporte pro solo riuscola ma questa non ci voleva posto per la casa questa volta questo è tutto attire e se nemmeno se nemmeno la zona lì si blocca io lo faccio a me non voglio mai approfittare visto che ci siamo e come se ci sono molto bene il sud Immunità! Guarda! Mi scappa! Naka, ma tu dove sei? Che pai! Ah, ti abbassi, meglia! Trocci sul cialdo! Qua chi tammo, invece? Aia! Allora, se ci stai meli le bombe non te le spara. Però le catene? Che fai? Eh, ti spacca la faccia, ti spacca. Mi ha preso il Barbaro. Immunità per il Barbaro. E perchè per il Barbaro? E perchè per il Barbaro? E perchè a me niente? Perchè il Barbaro e mi lì. Ah, sis! Senta, tua, vai! Io sto facendo il support, praticamente. Ah, ma non li buttiamo giù. No, non sono riuscito a tirare l'immunità. Dove stava quell'angolino? Non lo trovo! Questo, è questo! Cioè, scusate, Marcello ha fatto l'archiviment a calci in culle? Sì! Calci in culle! Eccolo là, l'agolino l'ho trovato! Ahahahah! Ora siete i miei! Per un'altra cosa che ho fatto. Cazzo ti mi! Vediamo se non ci riesco a sparare così lontano. Sì! Oh, che male! Sono in mostale. Vece trovo la bulbo. Perfetto. La bug bulbo. il porto porto portato a 668 mila di vita sto cavallo quasi come mai cazzo dove insegnargli un po' come ci fa ha troppato grigio ah vedete il grigio è un pezzo speciale no, non so mai fai vedere non lo trovo nemmeno vabbè dopo vediamo eccolo qua no, ma fa schifo come gli altri ma è perché funziona la corazza del condottino scadente scadente cazzo non lo posso nemmeno omittere, livello G49 io lo so, è un oggetto speciale, lo so voi non lo vedete, non lo vedete non lo vedete ma va non lo so non lo vedete se io devo capire gli attacchi collegati per rallentarli e poi su ti deve fare... lui volete... però... giallo... no... perché mi ha troppo toccato il bianco? non lo voglio! no, io non ho nemmeno un giollo... altro giallo qua! no... perché noi ci siamo sudati, ecco perché, porca miseria, è tutto il giorno che lavoriamo per sta cosa noi! sei ma che merda! è io che scocco gratis... altro giallo! ecco qua, stanno le catene che rallentano... ecco ho fatto il 59 bella è troppo solo blu, è so pieno... se spietro posso ritornare? si sape che cosa? io non so mica... non so mica pieno di diventare vedete che hai troppato più tu di me! io ho troppato blu appalate, ma sinceramente... non è vero il cazzo di blu ma guarda che i blu sono buoni, dipende da che i blu troppi sono buoni, si si, sono proprio buoni hai visto che animazione fuori quando ho giocato il nuboletto? si! 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 mi assaggia! si! mi assaggia! e poi dobbiamo andare a fare sotto all'inizio tutto gratis però andiamo un attimo qui sotto oh cazzo è vero è stato un filo sbaglio ci sono dei pacchi di regalo anche di qua ragazzi è una nuvoletta anche blu un pacco di natale un altro oggetto grigio di qua nell'angolino deludente abbastanza io non ho ancora visto che sono i pezzi però come quantità veramente ho la stessa chi è Guruklef? ah è Guruklef è mio è amico mio ti busco nella partita? c'è qualcosa no aspetta è finito guardiamo tutti più che altro si spoilerà una parte che è così a caso l'eterno degli unicorni assassini e se adesso entrerà e dice no ho sbagliato il gioco cazzo ahahah cosa ci manca? vediamo in basso e qua sinistra ah in fondo ha tutto all'inizio e anche in alto no qua sinistra ti cazzo è struttosto ahahah ahahah i sogni sono venti dei 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 ahahah ti puoi livello ai tuo amico qua tu ahahah 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 ci vuoi ci vuoi ci vuoi ci vuoi ci vuoi ci vuoi no ma abbiamo dacci qualcosa mamma da un cazzo alopo paracleto spara attenta ai piumi attento ai piumi no qua ce l'abbiamo contro i piumi qua l'uscita ok ci manca solo l'angolino la in basso ma c'è sempre da coraggiosissimamente dall'altra parte del lago addirittura gli spara con l'attacco che rallenta attenzione pure si sa mai che si avvicinassero non mancare mai di niente il mio angolo perfetto quello è l'angolo pack seguite il barbaro nooo un unicorno no non è un unicorno goluso è rimasto sconfoto è rimasto indietro si ma so e qua un bel leggendario ci starebbe si tra sti fiori esatto davanti alle palle mi faccio tutti fiori oh eccolo quale leggendario ah un bel amuleto non leggendario i nemici hanno perso parte della loro forza non ho fatto tutto è andato è mi sono avuto tutto si e ora vediamo troppo e ora vediamo troppo blu 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 ok penso che non ho troppato niente vediamo i gialli ho una head scamazzale runne posso scamazzale runne in qua di scomazzo o anzi posso scomazzo non commento io ho trovato oggetti 59 ragazzi anche 57 e 59 non solo 54 si si ma l'importante è quello giallo si si no ma dico quelli gialli stop la registrazione